A nove giorni dal voto delle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022 Forza Italia 100 presenta i suoi candidati nel collegio del Senato e della Camera ed è anche la prima ufficiale quale dirigente di Forza Italia di Fabrizio Toselli. Il 117 settembre 2022 I candidati presentati dal coordinatore centese degli azzurri Fausto Pareschi sono Enrico Aimi per il collegio del Senato proporzionale e un nominale e per il coordinatore provinciale di Ferrara Matteo Fornasini candidatura nel collegio proporzionale per la Camera dei Diputati e dicevamo la prima uscita in rappresentanza di Forza Italia dell'ex sindaco di Cento Fabrizio Toselli ora aderente al gruppo degli azzurri della provincia di Ferrari il quale nel suo intervento ha composto una sorta di scheda di presentazione dei candidati anche se per Enrico Aimi non ce n'è bisogno essendo il coordinatore degli azzurri dell'Emilia e Romagna e il senatore uscente con una lunga militanza in Forza Italia alle sue spalle. Sentiamo quindi i protagonisti della conferenza stampa nell'ordine Fausto Pareschi, Fabrizio Toselli, Matteo Fornasini e Chiulio Enrico Aimi. Amici arrivederci ai prossimi appuntamenti con le elezioni politiche italiane facendo parlare il territorio. Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi qui per presentare il candidato alla Camera di Forza Italia per la nostra zona e il candidato al Senato sempre per Forza Italia per la nostra zona. Noi di Forza Italia, noi come circolo di centro ringraziamo in primis il senatore Enrico Aimi che ci onora sempre, al primo richiamo arriva immediatamente e siamo contentissimi di questo. Come i cani quando fischiano immediatamente all'isposizione. Sentiamo il senatore veramente vicino alla nostra città. Io passerei la parola a Fabrizio Toselli che è l'ex sindaco del Comune e che potrà illustrare un po' il programma, le cose che abbiamo fatto qui al centro, che stiamo facendo e diciamo le ragioni per cui è giusto votare Forza Italia il 25 settembre. Grazie. Grazie Fausto. Allora, come diceva Fausto, noi qui a Cento, grazie anche ai tanti volontari, ai tanti iscritti, simpatizzanti di Forza Italia, stiamo organizzando tante cose perché ai banchetti praticamente quasi tutti i giorni perché tra il giovedì di mercato, il sabato, la domenica, settembre centese stiamo veramente e quindi ringrazio anche tutte le persone che alcune sono qui anche che si stanno veramente adoperando perché non è facile oggi come oggi andare in piazza col banchetto, con la bandiera, c'è tante volte c'è sempre, diciamo che c'è sempre meno gente che lo fa. Invece noi qui a Cento abbiamo l'opportuna di avere tanta gente che insomma invece ci mette la faccia, ci crede e crede anche questa volta a Forza Italia. Abbiamo un bel gruppo, io sono qui, sono rientrato a gennaio e febbraio con la presenza sempre del senatore Aimi e di Matteo Fornasini, avevamo dato l'annuncio del mio rientro in Forza Italia quindi oggi sono qui per dire che bisogna votare Forza Italia quindi invito gli elettori di Cento ma del lato ferrarese poi qui abbiamo comunque delle testate che vanno oltre anche i confini centesi perché andiamo anche nel Bolognese, insomma Pieve, Casteldargi, insomma abbiamo modo di parlare a un pubblico molto più vasto rispetto al Comune di Cento quindi a tutti ovviamente invito a votare il 25 settembre per Forza Italia perché? Perché abbiamo intanto due candidati che sono sempre stati vicini al territorio, ci sono sempre stati vicini come Matteo Fornagini che è un amico da 30 anni che è candidato alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale per Forza Italia e l'amico senatore Aimi, senatore uscente quindi è ricandidato proprio nel collegio proporzionale in cui c'è Ferrara, la Romagna e mi sembra anche Bologna se non sbaglio, proprio per essere rieletto e per poter proseguire il lavoro che ha svolto in questi 5 anni in cui è stato senatore e lo dico perché anche negli anni in cui sono stato sindaco devo dire che ho sempre avuto una mano e un supporto da parte del senatore Aimi ogni qualvolta c'era un problema da risolvere o comunque delle richieste anche che da livello locale dovevano essere fatte a livello nazionale quindi è molto importante mandare, votare Forza Italia ma soprattutto anche fare in modo che a Roma ci vadano persone legate al territorio quindi non pare cadutati come si legge in tante altre zone d'Italia Forza Italia qui ha candidato due persone del territorio, due persone vicine, due persone che sono sempre state disponibili quindi quando lo si è stato lo si è anche domani, quindi per me è un segnale di garanzia Forza Italia perché? Perché Forza Italia comunque rappresenta il centro-destra Forza Italia ha fondato il centro-destra, è il partito che ha creato il centro-destra con il presidente Berlusconi Forza Italia è secondo me il partito centrale rispetto alla coalizione è quella che dà una garanzia che il governo centro-destra possa lavorare secondo me in un certo modo è il partito che dà determinate garanzie anche a livello di scenari internazionali e soprattutto, l'ho detto a febbraio quando sono rientrato in Forza Italia Forza Italia è nato ed è un partito di governo quindi è un partito che ha abituato quella sua classe dirigente a governare un paese a governare un paese difficile come l'Italia in un momento difficile come stiamo vivendo oggi quindi il mio invito e quindi il mio sostegno forte e convinto nei confronti Forza Italia e dei due candidati che sono al tavolo è forte e convinta e quindi invito anche voi a fare altrettanto e ci auguriamo sul centro e su tutto il territorio diciamo dell'Alto Ferraresi di avere un buon risultato, un ottimo risultato perché se Forza Italia avrà un ottimo risultato credo che sia una garanzia ancora più grande perché il centro-destra possa governare in modo ottimo questo paese grazie adesso lascio la parola a Matteo Formagini molto brevemente anch'io mi associo a ringraziamenti intanto a Fabrizio Toselli a Fausto Pareschi, a tutto il gruppo, uno dei più attivi della provincia di Ferrara a tutto il gruppo di Forza Italia 100 è un momento importante questo, è un momento importante per il paese è uno snodo, il 25 settembre è uno snodo importante perché avremo la possibilità di scegliere tra due visioni molto diverse del futuro del nostro paese una, la nostra, quella orientata allo sviluppo, alle imprese, alle attività economiche lo dico qua perché è un'area particolarmente ricca di dinamicità dal punto di vista imprenditoriale siamo reduci con l'amico Enrico Aimi da un incontro proprio adesso ad una importante azienda del territorio dimostrazione che Forza Italia è la forza che più di tutte rappresenta il tessuto economico e imprenditoriale le partite IVA, le piccole e medie imprese che sono poi il cuore pulsante e la colonna vertebrale della economia del nostro paese i nostri temi sono questi, sono quelli del lavoro, dello sviluppo, delle infrastrutture in questo territorio c'è tanto bisogno di infrastrutture per rendere più competitive e più moderne anche le nostre imprese che si devono sempre più confrontare con un mercato globale a parità di condizioni quindi significa dare infrastrutture che possano collegare velocemente la nostra provincia e la provincia al suo interno e la provincia con le province vicine della regione e quindi da questo punto di vista Forza Italia c'è, il Presidente Berlusconi ha dimostrato e sta dimostrando ancora una volta in questa campagna elettorale di avere non una ma due marce in più almeno rispetto a tutti gli altri leader del panorama politico italiano è quello che sta indicando ed è l'unico, uno dei pochi che parla dei problemi delle imprese, delle famiglie e degli italiani è una campagna elettorale molto brutta perché gli avversari ci stanno solo attaccando e facendo degli attacchi gettando fango contro di noi e invece il Presidente Berlusconi e tutta Forza Italia sono impegnati di una campagna sui problemi, sui temi con le nostre soluzioni che sono le soluzioni di buonsenso con una visione di sviluppo, un'idea di futuro che non può essere che un'idea moderata, centrista come l'idea che rappresenta Forza Italia che ricordo è l'espressione in Italia del Partito Popolare Europeo che è la principale e più importante famiglia europea al Parlamento Europeo e in generale nelle istituzioni europee e noi siamo la forza moderna, centrista, cristiana, liberale la forza che darà la garanzia di stabilità, di atlantismo e di europeismo nel prossimo governo che sono sicuro sarà un governo di centro-destra. Grazie. Lascio il Ricco che è un caro amico, scusami Ricco, lo ringrazio di cuore perché davvero Ricco pur avendo una regione molto grande perché l'Emilia Romagna va da Piacenza fino a Cattolica tutte le volte che c'è insieme ad Anna Maria Bernini, tutte le volte che lo chiamiamo davvero è una persona che nasce dal territorio e anche se ha avuto una carriera importante perché se l'è meritata tutta tutte le volte che il territorio chiama dalla Piacenza fino a Cattolica c'è ed è disponibile, presente e per questo si merita sicuramente di essere rieletto. Grazie Matteo, grazie davvero di grande cuore soprattutto per quello che hai fatto, quello che stai facendo così come voglio ringraziare anche Fausto per l'attività che anche lui da militante quale è, ma direi da dirigente di Forza Italia che sta mettendo in campo. E poi Toselli non solo perché è già stato sindaco di Cento ma perché è persona di altissima qualità, prezioso per Forza Italia io credo che a breve riusciremo a darti anche un incarico, spero, mi auguro, prestigioso lo meriti tutto. Grazie ovviamente ai giornalisti porto il saluto del Presidente Berlusconi e di Anna Maria Bernini i quali mi hanno pregato, e ovviamente il Presidente Tajani, tutte le occasioni che tu avrai modo di incontrare i nostri militanti, le persone che sono vicine a Forza Italia anche i giornalisti per l'alto incarico che svolgono in questa campagna elettorale che è quello della informazione, ti preghiamo di portare i nostri più affettuosi saluti e ringraziamenti ed è un ringraziamento che io voglio rivolgere in particolare, oggi siamo qui a Ferrara a tutti e a ciascuno di voi perché lo meritate nel senso che Forza Italia non esisterebbe se non ci fosse una forza militante capace che si prepara sul territorio l'ho sentito prima gli amici che mi hanno preceduto e devo dire che è la dimostrazione di una bellissima classe dirigente che c'è a Ferrara e che io credo che debba essere onorata il modo migliore per onorarla è quello di guardare a figure come quella di Matteo Fornasini che non è stato solamente messo in una posizione importante in lista alla Camera ma io credo che comunque vada Matteo Fornasini, questa è la notizia che io vorrei dare oggi a chi ci segue, Matteo Fornasini potrebbe assolutamente aspirare ad un ruolo alto anche di governo magari come sottosegretario perché nel ruolo che egli stesso ha condotto fino adesso come assessore a Ferrara è persona che si è guadagnata i galloni sul campo è persona di altissimo profilo tecnico, politico e noi abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di persone al governo che arrivino a questi livelli perché poi il territorio chiede è difficile riuscire semplicemente con i tecnici a realizzare quello che invece la struttura politica deve fare vi faccio un esempio semplicissimo, vedete qui siamo in una struttura è stata progettata sicuramente da un tecnico ma l'indicazione di dove mettere le prese di corrente la presa per la televisione le ha indicate colui che voleva che questa struttura avesse una certa funzionalità, quindi la politica ha una funzione che è superiore purtroppo è da qualche decennio, sono circa tre decenni che la politica va in una direzione diversa non c'è stata la fine del mondo ma è la fine di un mondo la fine di un mondo politico è quello della globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta oggi avanzano altre istanze, ci sono altre spinte magari identitarie e che io credo che Forza Italia possa interpretare al meglio cercando anche di portare all'interno della coalizione quell'equilibrio che è assolutamente necessario stiamo per uscire e io mi auguro dalla ideologia che ha governato Sino Logica che è quella del mercato, almeno il mio desiderio è quello io vorrei che fosse la politica a tornare a prevalere sulla finanza cosa che non sempre si è verificata negli ultimi anni in Italia ed in Europa e nel mondo siamo arrivati ad una ricchezza senza nazioni e ad una nazione senza ricchezza questo è il primo problema e questo è accaduto dal crollo del muro di Berlino nel 1989 nell'arco di pochissimi anni con il VTO a Marrakesh del 1994 qui c'è lo spartiacque di un sistema ho avuto l'onore e il privilegio di guidare Forza Italia come capogruppo in commissione affari esteri ho avuto un osservatorio privilegiato, ho visto accadere tante cose credo che Forza Italia abbia la soluzione anche per risolverle la prima questione importante è quella della guerra una guerra che sta lacerando il nostro continente sta creando problemi gravissimi alle nostre imprese noi non viviamo solamente l'inverno non viviamo pure solamente dell'inverno che è in arrivo per la tenuta dei problemi del gas eccetera abbiamo un altro inverno che è quello demografico ma abbiamo anche un altro inverno che potrebbe essere quello delle imprese e con quello che sta accadendo potrebbe capitare in Italia e in Europa la cosiddetta tempesta perfetta per evitarlo c'è un solo modo guardare con il voto utile in queste elezioni alle forze politiche che possono dare una risposta e queste sono solo ed esclusivamente nell'ambito del centrodestra e nell'ambito del centrodestra per riequilibrare come diceva Matteo Fornasini la nostra prospettiva per un progetto serio sull'Italia è quello di guardare con rinnovata simpatia e mi rivolgo soprattutto a coloro che almeno per una volta avevano votato per Forza Italia di tornare a tributarci la loro fiducia perché le soluzioni le abbiamo un leader come Silvio Berlusconi che è tornato in campo che ha dimostrato una lucidità assoluta è colui che in questo momento secondo me ma anche secondo moltissimi leader e esperti europei insieme ad Angela Merkel colui che insieme ad Angela Merkel potrebbe rappresentare la soluzione diplomatica per portare Vladimir Putin e la federazione russa a più miti conversali in un momento delicatissimo la soluzione di quel conflitto passa attraverso due persone un uomo di Stato come Silvio Berlusconi e una grande leader come Angela Merkel è volutamente andata in pensione bisogna che ritorni perché questo è un momento particolarissimo abbiamo attraversato la pandemia c'è stato un piano di aiuti enorme lo dobbiamo fare martedì torneremo in aula in Senato per dare maggiore forza alle imprese e alle famiglie questo decreto aiuti ter sarà sufficiente io credo che è necessario forse non è l'ultimo ce ne saranno altri dobbiamo andare in questa direzione dobbiamo aiutare le imprese e le famiglie come si diceva un tempo nell'agenda Draghi quando era alla BCE whatever it takes cioè fino alla fine diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetiche necessità di un'autonomia dell'Europa perché questo è il problema quello che Silvio Berlusconi aveva indicato già nel 1900 negli anni nel 1994 e poi negli anni 2000 di arrivare ad un'Europa che avesse una propria sovranità un'Europa forte militarmente con una forza di pronto intervento da 100.000 uomini un'Europa capace di avere un'autonomia energetica con centrali nucleari anche qui bisognerebbe che noi ci spostassimo in questa direzione perché non possiamo pensare di risolvere solo con i pannelli solari o con le con certe idee alla Greta Thunberg per intenderci non siamo esattamente all'altra parte credo che Greta Thunberg abbia dimostrato e quella ideologia di riferimento tutti i suoi limiti non è che noi siamo a favore dell'inquinamento per carità siamo contrarissimi in ogni forma di inquinamento ma c'è modo e modo di essere qui siamo arrivati con quell'agenda ad un fanatismo ideologico che le imprese italiane ed europee non possono più sopportare l'Europa inquina per l'8% se andiamo a guardare all'estero Cina e India fanno sostanzialmente il resto insieme a qualche altro paese un problema enorme in particolare quello dell'arrivo della Cina sullo scenario internazionale prima la pensavamo fosse limitata ai propri confini interni ma invece vediamo che gli interessi cinesi sono arrivati in Africa e quindi conseguentemente hanno colpito l'Europa con un esodo che rischia di diventare biblico ed è per questo che io credo che una forza responsabile come la nostra abbia il dovere di ritornare a quelle politiche del Presidente Berlusconi che avevano portato ad un zeramento sostanzialmente degli sbarchi in Italia non con altri progetti attraverso gli accordi bilaterali poi è vero in determinate situazioni in cui te riporti anche il controllo dei confini perché non si capisce i confini al sud del Mediterraneo non sono solo i confini dell'Italia ma sono i confini dell'Europa un'Europa che comunque deve avere una sua visione solidale ma la solidarietà vera la facciamo nei confronti delle popolazioni che sono in Africa aiutandoli a non immigrare perché è vero che c'è il diritto qualcuno lo sostiene all'emigrare ma c'è anche il diritto all'emigrare e allora accordi bilaterali con l'area del Maghreb accordi bilaterali legati diciamo sotto il profilo dei trattati internazionali agli accordi di natura economica finalizzati però e con la clausola che i cittadini provenienti da quei paesi vengono riaccolti e poi aiutati anche perché un immigrato in Italia penso un minore costa più di 100 euro ogni giorno qui chi è che ci fa gli affari su sta roba cominciamo a mettere i puntini sulle i come si dice o a raccontare le cose come stanno è una situazione che diventa insostenibile io non so per quanti anni ancora ad esempio il nostro sistema sanitario nazionale potrà resistere a questa situazione vi racconto quello che è successo qualche tempo fa lo raccontavano ieri in una conferenza stampa che abbiamo avuto a Modena sul welfare la difesa cioè delle persone più deboli caso che mi ha mi ha lasciato direi sconvolto ed è sconvolto anche immagino chi ascolterà quello che sto per dire comune assessore al welfare disponibilità un milione e quattrocento mila euro per aiutare la popolazione che ha necessità che non ha neanche il latte da dare ai bambini insomma abbiamo anche situazioni estremamente difficili un cittadino africano fa richiesta di ricongiungimento la richiesta di ricongiungimento familiare viene accolta arriva la moglie con cinque figli succede il finimondo in famiglia una volta che c'è ricongiungimento per ragioni legate probabilmente a problemi anche diversi probabilmente natura psichica del soggetto comincia a picchiare la moglie i figli violenta la moglie violenta le figlie che arrivano interviene la magistratura vengono portati e vengono messi a disposizione nel comune il comune interviene 45 euro al giorno per ognuno 5 figli la moglie diventano 6 persone 45 euro oltre 100 mila euro all'anno per sostenere io non so più come fare chi mi arriva e mi chiede come posso fare in una situazione di questo tipo magari preso dai morsi dell'affano in enormi difficoltà ecco allora Forza Italia anche sotto questo profilo quello della sicurezza noi dobbiamo tornare ad agganciare il principio della permanenza del chiamiamolo con il suo nome permesso di soggiorno cioè tu hai permesso di soggiornare è un permesso legato ad un comportamento che tu devi mantenere se non rimani all'interno di questi parametri puoi tornare liberamente l'Italia ti offre questa grande opportunità questa enorme straordinaria libertà di tornare da dove sei venuto se non lo fai bisogna che l'Italia stessa provveda in questi termini lo diciamo con estrema dolcezza lo diciamo con quella naturalezza che è nel nel ragionamento senza alzare i toni ma l'Italia non può più sopportare una situazione di questo tipo in cui le stazioni dei treni certi quartieri sono sottoposti alla pressione di una immigrazione incontrollata e violenta non è un tema che appartiene ad altre forze politiche è un tema che Forza Italia ha sempre declinato così come quello sulla giustizia un tema anche questo delicatissimo chi è il più perseguitato in assoluto l'uomo più braccato dalla magistratura italiana Silvio Berlusconi e allora noi abbiamo un progetto anche qui innanzitutto lo acceno in pochissime in pochissime in pochissime parole la inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado inappellabilità che è diventata fondamentale la magistratura continua e le procure continuano ad impugnare fino a che non si arriva alla sentenza di condanna noi in Emilia Romagna abbiamo subito una persecuzione terribile con assoluzioni eccellenti arrivate anzi direi processi eccellenti che poi hanno portato a delle assoluzioni che sono poi uscite sui giornali con un trafiletto ma con persone ho ricordo l'amico Pagliani di Reggio Emilia assolto condannato ma una cosa veramente rocambolesca con una sofferenza inenarrabile da parte sua e della famiglia dirigenti tutti di Forza Italia penso a Bernini ma a tanti altri poi puntualmente assolti tra l'altro era successo questo a Parma era arrivata questo il nostro candidato Vignali il procuratore capo che aveva dato via a queste indagini e poi si era candidato col partito democratico allora signori qui ci vuole un momento di attenzione da parte anche dei cittadini italiani che guardino e che pretendono di avere una magistratura che deve essere come la moglie di Cesare al di sopra di ogni sospetto quindi abbiamo necessità di una giustizia che sia imparziale e terza e poi le imprese diceva benissimo Fornasini dobbiamo abbassare la pressione fiscale su imprese e famiglie non c'è altra strada se noi vogliamo continuare a mantenere un tessuto economico connettivo come quello che abbiamo in Emilia Romagna vorrei concludere sui nostri cortesi avversari politici mi riferisco in particolare ad Enrico Letta noi lo diceva Fornasini siamo i portatori dei valori del partito popolare europeo siamo una forza di garanzia esprimiamo il presidente come partito popolare europeo della commissione europea del Parlamento europeo della banca centrale europea non ci fanno paura le minacce che arrivano dall'estero e coloro che dall'Italia invitano in maniera rocambolesca contro l'Italia stessa a dire che c'è un pericolo in Italia non esiste nessun pericolo sono i cittadini che devono decidere se ne faccia una ragione Enrico Letta che non fa altro che parlare di problemi che non riguardano affatto le famiglie gli italiani le imprese perché occuparsi delle piantine di marijuana da una parte del fine vita da quell'altra con una certa con una certa fobia o dell'immigrazione siamo in presenza di una persona che ha perso completamente la bussola della politica della sua politica e lo invitiamo noi a guardare le persone che sono in difficoltà perché oggi se un italiano se un operaio se un produttore vuole votare per una forza politica che ha a cuore gli interessi dell'Italia di se stesso e della propria famiglia non può che guardare a forza Italia perché noi difendiamo il lavoro noi difendiamo la vera politica sociale non la politica del reddito di cittadinanza sempre e comunque ad ogni costo chi è in difficoltà va aiutato va assolutamente rivisto perché non si può dare il reddito di cittadinanza a terroristi a brigatisti e a tutti coloro che arrivano in Italia e che pensano che questo sia il ben godi non è più così e allora con rinnovata fiducia guardare a forza Italia nella speranza io lo direi nella certezza della vittoria delle elezioni nella speranza che si comprenda che questa volta più di ogni altra volta il voto dato a Berlusconi agli azzurri e a forza Italia sia un premio anche a se stessi noi aiutiamo il prossimo ad aiutarsi tutto qua con molta semplicità con il linguaggio degli amici che hanno maturato una enorme esperienza sul territorio fatta di capacità e soprattutto di progettualità quella stessa che noi vogliamo portare per gli italiani con la speranza non solamente dell'elezione ma anche che l'amico Fornasini possa avere e concludo dove sono partito quel ruolo fondamentale anche in una compagine di governo perché persone come la sua meritano una sublimazione politica di questo tipo grazie bene direi che vi han detto tanto mi scusi sono stato fin troppo un po' un po' un po' così importante Grazie.